Salve curiosi, benvenuti o ben ritrovati. In questo video parliamo di Publio Valerio Publicola. Sembra quasi uno scioglilingua, ma in realtà si tratta di un personaggio importantissimo, passato alla storia come l'amico del popolo, tanto che fu nominato console per ben quattro volte. Parlo volentieri di questo personaggio anche e soprattutto su consiglio dell'utente Alberto Viani, che saluto, ringrazio e spero di soddisfare. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e ad attivare la campanella delle notifiche per sapere quando usciranno nuovi video. Detto questo, iniziamo subito col nostro racconto. Publio Valerio, di Probabili Origini Sabine, nasce approssimativamente nel 560 a.C. e sebbene di lui facciano menzione diversi autori antichi come Tito Livio, Plutarco e Cicerone, purtroppo della sua infanzia sappiamo poco e nulla. Ne sentiamo parlare infatti nel momento in cui Tarquinio Superbo viene cacciato da Roma dopo il suicidio di Lucrezia e, come abbiamo già detto, riveste un ruolo fondamentale nel rovesciare la monarchia a fianco del console Bruto, il quale però perde la vita nella battaglia della Selvarsia. La nostra storia inizia proprio con il funerale del console, che Valerio celebra in modo solenne e dopo il quale le matrone porteranno il lutto per un anno in ricordo di Bruto, che, lo ricordiamo, è stato l'uomo che ha rovesciato la monarchia e favorito la nascita della Repubblica, ma che nel suo poco tempo passato come console non ha fatto in tempo a guastare la sua reputazione. Valerio è dunque adombrato dalla figura di Bruto e deve dimostrare di essere altrettanto valido, solo che inizialmente ottiene l'effetto contrario, perché il suo atteggiamento eccessivamente regale, più l'esitazione a nominare un successore di Bruto, per il popolo sono i chiari segnali che vuole aspirare al regno. Inoltre, in quel periodo, Valerio si stava facendo costruire una casa sulla Velia, un'altura posta tra il Palatino e l'Oppio, dove, peraltro, anche il terzo re di Roma, Tullo Stilio, aveva fatto costruire la sua casa in passato. E, quando scendeva a valle dall'assù, scortato dai littori, effettivamente dava l'impressione di voler essere il prossimo re di Roma. Fortemente criticato e accusato per questo, Valerio decide di radunare il popolo e di fare un lungo discorso dove specifica che non ha nessuna intenzione di diventare re, poiché crede fermamente nella Repubblica. E, per dare una dimostrazione di ciò, indica degli operai, mentre si trovano sulla Velia, che smantellano la sua casa e, con questo gesto, ottiene nuovamente la fiducia del popolo. Un giorno, mentre si trova nella sua tenuta di Eretrum, in terra sabina, un fulmine cade dal cielo e colpisce un albero nel bosco vicino e questo viene interpretato come il fatto che gli dei sono arrabbiati. E, considerando che proprio Tullo Stilio, il terzo re di Roma, sarebbe stato ucciso da una folgore scagliata da Giove, se fossi stato Valerio, pure io me la sarei fatta sotto. Dopo questo evento, i figli di Valerio vengono colti dalla febbre e dai tremori e una voce dal bosco si leva suggerendogli di portarli nel Tarentum, che sarebbe quella parte del campo marzio più vicino al Tevere, e di far bere loro l'acqua del fiume riscaldata su un altare dedicato alle divinità infere Dis, Pater e Proserpina. Valerio fa quanto gli è stato detto e, una volta arrivato lì, inizia a scavare per costruire un altare, ma, senza volerlo, ne dissotterra uno preesistente e sul quale, appunto, scalda un po' di acqua del Tevere per farla bere ai suoi figli, che, dopo aver bevuto, guariscono dalla febbre. Chiaramente si tratta di una leggenda, ma queste sue gesta sono comunque confermate da più fonti. Così come Bruto ha purificato la città dalle nefandezze del Superbo, consacrando la sua reggia a Marte, Valerio vuole purificare la pianura del Tarentum, sacrificando alle divinità infere una mucca e un toro, e organizzando per i successivi tre giorni delle gare equestri. Così facendo, Valerio non solo compie un gesto positivo per Roma ottenendo consensi, ma onora anche una tradizione di famiglia, perché in passato un suo antenato era stato il primo a fare dei sacrifici a queste stesse divinità in quella zona. Chiaramente non basta occuparsi degli aspetti religiosi, ma per far sì che la Nuova Repubblica funzioni, occorre dedicarsi anche a quelli politici, e occorrono soprattutto delle leggi che fungano da base solida. Valerio, infatti, ha già pensato a queste leggi e inizialmente si comporta quasi da tiranno, non volendo nessun successore per Bruto, perché non voleva interferenze mentre il popolo le votava, e queste leggi fondamentalmente sono quattro. La prima di queste leggi prevedeva che il popolo potesse appellarsi contro le sentenze dei magistrati, nel senso che, se un magistrato voleva multare, frustare o condannare a morte un uomo, il popolo poteva convocarlo in giudizio finché non prendeva una decisione. La seconda legge prevedeva che chiunque avesse aspirato al regno come re sarebbe stato condannato a morte e i suoi beni sarebbero stati consacrati agli dèi. La terza legge stabiliva che nessuno poteva essere magistrato senza l'approvazione del popolo e che, in caso contrario, sarebbe stato condannato a morte. E infine, la quarta legge si rifaceva a un vecchio provvedimento di Servio Tullio, che prevedeva un censimento della popolazione per stabilire quanto ogni cittadino dovesse pagare contribuendo alle spese di guerra. Insomma, con queste leggi Valerio chiarisce una volta per tutte che a Roma la monarchia è finita per sempre. E considerando che ogni legge dava a ogni cittadino un grande potere decisionale, Valerio incontra il favore di tutto il popolo, che da quel momento in avanti lo soprannomina Publicola o Poplicola, che appunto, come recita il titolo di questo video, significa amico del popolo. Una volta perfezionate e consolidate le basi della Repubblica, finalmente Valerio elegge un nuovo console, ovvero Spurio Lucrezio Tricipitino, il padre di Lucrezia, che però more di lì a poco per una malattia, e al suo posto subentra Marco Orazio Pulvillo. Siamo nel 509 a.C., primo anno della Repubblica, a cui sembra corrispondere il primo trattato con i cartaginesi, che stabiliva vincoli e confini da rispettare durante le rotte commerciali tra le due potenze. L'anno seguente, il 508, vede Publio Valerio console per la seconda volta in compagnia di Tito Lucrezio Tricipitino, probabilmente un parente di Spurio, e in questo anno Valerio si occupa di rafforzare la colonia romana di Signa, l'attuale Segni, fondata da Tarquinio il Superbo, e le colonie di Pomezia e di Cora. Ma questa espansione viene interrotta da una minaccia che arriva dal Gianicolo, ovvero il re etrusco della città di Chiusi, Lars Porsenna. Se vi ricordate, la tradizione vuole che Porsenna attacca Roma per aiutare Tarquinio il Superbo a riprendersela. Ma su questo non ci sono prove concrete, mentre è assolutamente vero che per il re etrusco Roma rappresentava uno snodo viario fondamentale per controllare in seguito i popoli latini che vivevano a sud del Tevere, senza contare che la Roma repubblicana era in quel momento più vulnerabile di quanto non lo fosse quando era governata da retta Tarquinio. Qualcuno suggerisce che Roma, non essendo preparata ad un attacco, venga assediata da Porsenna, ma questo stride parecchio con il fatto che in seguito i Romani eressero una statua in suo onore nella Curia. E, secondo alcuni storici, tra cui l'archeologo Andrea Carandini, è abbastanza improbabile che i Romani, orgogliosi come erano, avrebbero eretto una statua in onore di un conquistatore. Ed è in questo periodo che si svolgerebbe la famosa battaglia del Ponte Sublicio, dove abbiamo già citato l'eroe Orazio Coclite che distrugge il ponte impedendo agli etruschi di attraversare il fiume. Ma questo scenario, volutamente propagandistico a vantaggio dei Romani, non esclude un'altra possibilità, ossia che i Romani ripiegano in città perché vengono sconfitti. E dunque Porsenna resta accampato fuori dalle mura cittadine e rischia quasi la vita ad opera di Muzio Scevola, un altro eroe della tradizione romana di cui abbiamo già parlato. Nel frattempo è l'anno 507. Publio Valerio diventa console per la terza volta e Marco Orazio Pulvillo per la seconda. I due consoli riescono a discutere una tregua con Porsenna facendogli dono di alcune vergini, tra cui c'è Clelia, un'altra famosa eroina a cui la tradizione assegna il compito di rendere questo brutto momento della storia romana un po' meno drammatico. L'anno seguente Porsenna stringe un'alleanza con Roma e lascia la città liberando le aree precedentemente occupate. E stavolta come consoli abbiamo Spurio Larcio Rufo e Tito Erminio Aquilino. Passa un altro anno e nel 505 a.C. i consoli in carica sono Marco Valerio Voluso, fratello di Publicola, e Publio Postumio Tuberto, che respingono con successo gli attacchi dei sabini che tentano di invadere le campagne romane. Poi nel 504 a.C. Publio Valerio viene nominato console per la quarta ed ultima volta insieme a Tito Lucrezio Tricipitino, nominato per la seconda volta. E dovrebbe essere in questo periodo che Porsenna perde suo figlio a Runte nella battaglia di Ariccia per mano dei soldati di Cuma, capeggiati dal re Aristodemo, sotto la cui protezione, tempo dopo, morirà in esilio Tarquinio il Superbo. I soldati etruschi superstiti vengono soccorsi e accolti dai Romani, mentre Porsenna si ritira a Chiusi, dove finirà i suoi giorni. Nel frattempo i sabini tentano la ribalta, ma vengono sconfitti da Publicola presso Fidene. E così il nostro eroe torna a Roma concedendosi un grandissimo trionfo. Publio Valerio Publicola, l'amico del popolo, muore l'anno seguente, nel 503 a.C. I suoi funerali vengono pagati dai cittadini e, come per brutto, le matrone porteranno il lutto per un anno. Inoltre il suo corpo sembra che riceva il grande onore di essere sepolto all'interno delle mura cittadine, quando in realtà era buona norma che i morti venissero sepolti sempre al di fuori di esse. E questa era la storia di Publicola. Ma prima che il video finisca, come al solito, togliamoci qualche curiosità. Innanzitutto, è veramente esistito? Beh, come abbiamo visto anche nella sua storia, c'è il del mito. Ma effettivamente una prova della sua esistenza è stata identificata nel Lapis Satricanus, o Pietra di Satrico, dove il nome Publio Valerio è chiaramente leggibile e, sebbene non ci sia nessuna certezza che si tratti veramente di Publicola, la datazione e il fatto che si rivolga a un leader politico di quel tempo, giocano a favore di questa tesi. E poi va detto che, nonostante Publicola goda di un'ottima fama e fosse tenuto in grande considerazione da tutti, specialmente dal popolo, ci sarebbe un racconto che evidenzia quanto in realtà tra i consoli della Prima Repubblica ci fosse tanta invidia e competizione. Ci viene infatti raccontato che, quando Tarquinio il Superbo era al potere, commissionò agli artigiani di Veio una quadriga in terracotta che sarebbe dovuta essere issata sul frontone del Tempio di Giove Capitolino. Ma ovviamente poi Tarquinio venne cacciato da Roma e la cosa rimase in sospeso. Quando subentrano i consoli richiedono questa quadriga e, quando viene issata sull'edificio, bisogna effettivamente consacrare il Tempio a Giove, Giunone e Minerva tramite una solenne cerimonia. Questa viene fissata il 13 settembre del 509 a.C. e il compito spetta a Marco Orazio Pulvillo, perché a Publicola viene assegnata una spedizione militare che lo costringe a lasciare la città. Poco prima che Orazio inizi a pronunciare le preghiere, Marco Valerio, il fratello di Publicola, gli dice che suo figlio è morto in battaglia e questo comportava che i parenti del defunto diventassero impuri, pertanto Orazio non poteva continuare con il rito. Ma da bravo console lui antepone i suoi doveri alla famiglia, chiede che il figlio rimanga insepolto e rinuncia al lutto e prosegue con la cerimonia. In realtà successivamente si scoprì che quella era una menzogna, un tentativo mal riuscito per fare in modo che la cerimonia toccasse a Publicola. Quindi sicuramente un amico del popolo ma anche un po' rosicone. E siamo arrivati alla fine del video, spero come sempre di avervi intrattenuto e tolto qualche curiosità soprattutto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate e condividete il più possibile. Ci vediamo prossimamente con un nuovo argomento. Un saluto a tutti e a presto! Grazie a tutti!